Salve, salve da Marco Calabro per conto di Amarci Casa Italia. Quello che stiamo vedendo è una collana, una collana di Michael Kors, esattamente stiamo parlando della collana 366 0001 che viene proposta a un valore commerciale di 429 euro. Vado a prendere la collana in mano in modo che possiamo meglio vederla. Innanzitutto sicuramente la prima caratteristica è un prodotto infinitamente elegante. Vediamo questo effetto che viene dato, eccolo qua, vediamo questo effetto che viene dato molto 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 piacevole. È una collana di un certo peso perché è una collana metallica. Vediamo l'attacco. Eccolo qua. Vediamo l'attacco che è anch'esso di stile etnico, così come tutta la collana. E' un prodotto veramente gradevole. Purtroppo noi abbiamo solamente gli indicatori di prodotto, ecco così siamo riusciti a vedere questo effetto brillante che ha la collana che è veramente piacevole. Gli indicatori dei prodotti che abbiamo, gli espositori che abbiamo dei prodotti sono di colore nero. Quindi se usassimo uno di questi espositori purtroppo si perderebbe l'effetto molto molto bello che ha questa collana. Una collana che abbiamo detto di Michael Kors. Dobbiamo anche fare una considerazione. I voci di corridoio ci dicono che Michael Kors, il brand Michael Kors, abbandonerà la realizzazione di questo tipo di prodotti. Se questo fosse vero sicuramente potrebbe aumentare con il tempo il pregio dei prodotti stessi. Grazie sempre per ascoltare i video di Amaci Casa Italia. Ci trovavamo qua oggi per conto di Epumo per fare questo video. Grazie e arrivederci.